collegali per farlo muovere collegali per farlo saltare crea videogiochi in modo semplice collegando tra loro i misteriosi nodon impara a creare videogiochi dagli esperti di nintendo con laboratorio di videogiochi divertiti a creare i tuoi videogame grazie alle lezioni guidate tutti possono imparare a creare in modo semplice i propri giochi i nodon non vedono l'ora di aiutarti a programmare i tuoi giochi queste piccole creature vivono all'interno del tuo nintendo switch e hanno tutte un ruolo diverso cambia nella posizione e le dimensioni e poi collegale tra loro per modificare il funzionamento del tuo gioco per esempio collega un nodon stick a un nodon persona per spostare il personaggio con lo stick cambia la forma di un nodon oggetto per creare una piattaforma collega un nodon persona a un nodon schermo del gioco per fare in modo che la visuale segua il personaggio inserendo e collegando i nodon in vari modi potrai creare tanti giochi diversi come questi pensi di non essere in grado allora ecco cosa ti serve una partita di acchiapparella uno sparatutto a scorrimento orizzontale un gioco d'azione in 3d divertiti a creare giochi in sette lezioni guidate segui i vari passaggi di ogni lezione per creare un gioco completo diamo un'occhiata a come funzionano le lezioni grazie alle semplici istruzioni passo a passo che spiegano come inserire e collegare i nodon creare un gioco in piena regola è alla portata di tutti man mano che completi le lezioni incontrerai sempre più nodon ognuno con la sua personalità unica più nodon incontri più strumenti avrai a disposizione per dare vita alle tue idee mettiti alla prova con i checkpoint che separano le lezioni applica quanto hai imparato risolvendo enigmi basati sui nodon dopo aver imparato come creare giochi nelle lezioni prova a dare vita alle tue creazioni nella modalità programmazione libera usa tanti nodon diversi aggiungi della musica d'atmosfera disegna un'immagine e usala come personaggio o come sfondo libera la tua creatività programmando giochi tutti tuoi l'unico limite è la tua immaginazione potrai realizzare giochi come questo o persino come questo e non è tutto potrai anche inviare le tue creazioni agli altri in locale o online condividi lì di gioco per far divertire giocatori di tutto il mondo con il tuo videogame impara a creare videogiochi dagli esperti di nintendo con laboratorio di videogiochi a presto a presto grazie a tutti